Vincenzo Valle, parroco di Oneta, è stata da poco ripristinata la fontana dove nel 1512, il 2 luglio, è avvenuta la lacrimazione o l'apparizione a seconda delle due versioni che si vogliono considerare quella storica o quella della tradizione. Sì, siamo proprio su questo luogo, se ti ricordi l'anno scorso eravamo qua e dicevamo ma si racconta che qui c'era la fontana e mi piacerebbe poter ritrovare un po' e mettere in evidenza questo luogo, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta e con tanta soddisfazione anche perché la maggior parte delle persone erano scettiche e invece abbiamo subito trovato il luogo, appena col badile abbiamo cominciato a togliere un po' di terra, abbiamo ritrovato il tutto. Ma è interessante anche tutta la dinamica di questa fontana perché oltre al fatto prodigioso che appunto ci ricorda quel fatto prodigioso ma poi il fatto di aver ritrovato la fontana, di aver scoperto che era alimentata da una cisterna retrostrante che nessuno mai ne ha parlato e noi invece abbiamo ritrovato proprio anche la cisterna che a sua volta era alimentata e ancora ci sono i coppi, la canaletta di coppi che probabilmente andava a una sorgente nel bosco e portava appunto l'acqua in quella cisterna che faceva da accumulo e poi usciva quando l'acqua era in abbondanza usciva nella fontana dove i pellegrini appunto venivano per dissetarsi. E non solo, anche questi gradini per esempio, noi dai racconti sappiamo che c'erano quattro gradini di accesso alla fontana e noi questi gradini non è che li abbiamo ritrovati adesso così come sono sul posto, però li abbiamo ritrovati in uno scantinato qui nel local qui vicino al santuario, abbiamo ritrovato i quattro gradini e noi abbiamo pensato subito che fossero i quattro gradini, allora li abbiamo ricollocati qui e tra l'altro anche come misure, come ci siamo trovati proprio con le misure dell'interno della fontana. E anche la stessa fontanella in pietra noi che l'abbiamo trovata insieme ai gradini sempre in questo scantinato con ogni probabilità visto come è descritta la fontana probabilmente è proprio la stessa che c'era al tempo dell'apparizione. Perciò è stata una cosa molto bella di cui devo dire sono anche onorato di aver fatto, di aver rimesso in luce diciamo quello che si sapeva ma che era andato perduto. Quindi in occasione delle celebrazioni del 2 di luglio potrà presentare ai parocchiani e ai fedeli anche questa novità. Sì perché l'anno scorso nel 2 luglio l'avevamo detto un po' come programma, di dire in vista di quello che sarà poi la festa del 2 luglio del 2012, 500 anni dell'apparizione, ci ci eravamo detti ci piacerebbe poter ripristinare la fontana oltre al parcheggio, ingrandire il parcheggio dove arrivano i pellegrini con le macchine e diciamo che abbiamo fatto tutte e due le cose nell'arco di un autunno e un inverno. E tra l'altro devo anche dire che mi piacerebbe poter celebrare la messa proprio in questo luogo, anche solo una di quelle celebrazioni che si fanno, delle 5 che si fanno il giorno dell'apparizione, mi piacerebbe una poterla celebrare qua perché comunque ritengo che questo sia il vero santuario della Madonna del Fras. Quell'edicola che qui c'era e che purtroppo è andata distrutta lo dobbiamo riconoscere come il vero santuario perché tutto il resto è venuto di conseguenza.